Ciao ragazzi e benvenuti a questo nuovo episodio dell'Inspiegabile Podcast. Ci siamo lasciati qualche giorno fa in un momento cruciale della vicenda di Jodie e Anna, a pochi passi da una rivelazione agghiacciante. Cosa è emersa dalle indagini di Jodie in merito a Marlise? Qual è il grande mistero dell'appartamento numero 14? Mettetevi comodi perché in questa seconda e ultima parte dedicata alla vicenda ve lo svelerò. Ecco quindi il mistero dell'appartamento numero 14, seconda e ultima parte. Nella biblioteca di Chico, articolo dopo articolo, Jodie fu finalmente in grado di ricostruire la storia di Marlise e la dinamica della sua scomparsa. Il 31 gennaio del 1976, un sabato, Marlise e il suo ragazzo John Barrett si recarono a un mercatino delle Pulci presso la Eagles Hall a Chico. Mentre si trovavano lì, tra i due scoppiò un litigio e lei, infuriata, decise di tornare a casa da sola, percorrendo a piedi circa 5 chilometri che la separavano dal suo appartamento, il numero 14 del complesso residenziale Walnut Gardens. Secondo quanto riferito dai giornali dell'epoca, l'ultima volta che era stata vista, stava camminando tranquillamente lungo la Mongrove Avenue, intorno alle 16 circa. Da quel momento aveva fatto perdere completamente le sue tracce. Marlise era andata a vivere a Chico con il suo ragazzo da solo due mesi. Conosceva poco la città, doveva ancora ambientarsi e integrarsi nella comunità. Quindi la sua scomparsa improvvisa fu accolta con una certa apprensione, soprattutto della sua famiglia. Tornato a casa, il suo ragazzo John notò che tutti gli effetti personali di Marlise si trovavano ancora nell'appartamento. Poco probabile, quindi, che avesse deciso di andarsene o di prendersi qualche giorno di libertà per visitare un'amica. In un primo momento John cercò di mantenere la calma, ma in mancanza di notizie da parte di Marlise, durante le 48 ore successive, il 2 febbraio ne denunciò ufficialmente la scomparsa la polizia. John venne interrogato a lungo. Considerarlo una persona sospetta sembrava piuttosto logico, dato che era l'ultima persona ad averla vista, e che la loro relazione, a quanto riferito da Martha, la sorella di Marlise, presentava dei problemi da diverso tempo. Il giovane negò qualsiasi tipo di coinvolgimento e accettò di sottoporsi al test della macchina della verità, superandolo senza problemi. La sua testimonianza sembrava sincera. Non sembravano esserci prove che potessero smentire la sua versione dei fatti. Era giunto il momento di pensare ad altre ipotesi, indagare altrove. Il caso raggiunse i media nazionali. Vennero distribuiti i volantini con la fotografia di Marlise per tutto il paese. Intervenne addirittura l'FBI, ma senza successo. Dopo più di sei mesi di ricerche e tesi di tutti i tipi, la scomparsa della giovane divenne un cold case e finì nel dimenticatoio. Ci sarebbero voluti ancora sette anni prima che il caso di Marlise venisse portato di nuovo sotto i riflettori. E quello che sarebbe stato scoperto su di lei avrebbe fatto correre a tutti un brivido lungo la schiena. La cruda realtà. Nel novembre del 1984, Al Shamblin, investigatore del dipartimento di polizia di Red Bluff, venne inviato dal suo supervisore in una chiesa della sua città, dove lo stava aspettando una donna di nome Janice Hooker. A rivolgersi all'autorità, era stato il prete della parrocchia, al quale Janice aveva chiesto di poter confessare un segreto che la stava tormentando da molto tempo. Arrivato lì, il detective si trovò di fronte a una donna sconvolta e distrutta dai sensi di colpa. Nella sua confessione al pastore e al detective Shamblin, raccontò che nel 1976 suo marito, Cameron Hooker, aveva rapito e ucciso una giovane donna Chico, una certa Marlise Spanhick. Oltre a sentire l'impellente necessità di liberarsi di quel peso, la sua decisione di confessare avrebbe avuto anche lo scopo di proteggere se stessa. Se fosse rimasta a fianco del marito, ben presto avrebbe potuto finire lei nella lista delle sue vittime. Ma non solo. Dal 1977 in poi, Cameron stava altresì tenendo in ostaggio in casa loro un'altra ragazza, una giovane che aveva trasformato in una schiava, disposta a soddisfare ogni sua perversa richiesta, soprattutto di carattere sessuale. Il nome della giovane era Colin Stan, una povera vittima che, probabilmente per paura di fare la stessa fine di Marlise, aveva accettato le condizioni imposte dal suo sequestratore, arrivando addirittura a sviluppare nei suoi confronti una sorta di lealtà, un sentimento tipico di una vera e propria sindrome di Stendhal. Alla fine, il procuratore distrittuale prese una decisione. Concedere a Janice l'immunità a cambio della sua collaborazione. Se avesse testimoniato contro il marito, avrebbe potuto salvare anche Colin e far giustizia. Subito dopo cominciarono gli interrogatori. La donna raccontò di aver conosciuto Cameron nel 1973, quando aveva 16 anni e lui ne aveva appena compiuti 22. Solo due anni dopo si erano sposati. Cameron era una persona violenta, sadica e amante di pratiche di controllo estremo. In diverse occasioni l'aveva portata nel bosco e legata ad un albero con delle cinghie. Quando passò alla violenza fisica, Janice impose le sue condizioni. Se le avesse messo le mani addosso anche una sola volta in più, l'avrebbe abbandonato e denunciato alle autorità competenti. Alla fine giunsero ad un accordo. Lui non l'avrebbe più toccata neppure con un dito, ma lei gli avrebbe permesso di avere una schiava sessuale. Sarebbe stato a quel punto che le oscure fantasie del suo consorte avrebbero preso forma nella realtà, nonché il momento in cui le loro strade avrebbero incrociato quella di Marlitz. Durante una gita a Cicco, il 31 gennaio 1976, Janice e Cameron videro Marlitz camminare lungo la Montgomery Avenue. Erano circa le 16. Cameron fiancheggiò la giovane un paio di volte nel suo Dodge Colt a due porte. A quel punto Janice avrebbe capito le intenzioni del marito. Voleva rapirla. Pochi istanti più tardi si fermò e offrì alla ragazza un passaggio. Dal momento che Janice le accompagnava, pensò che non ci fosse nulla da temere. Accettò quindi l'offerta e salì in auto con loro. Durante il viaggio Cameron le fece numerose domande. Come ti chiami? Da dove vieni? Dove stai andando? Marlitz non aveva famiglia nelle vicinanze e nessuno sapeva dove si trovasse in quel momento. Era la vittima perfetta. Secondo il racconto della donna, a quel punto si fermarono ad un incrocio ubicato a pochi metri dall'appartamento dove viveva la giovane. Lei ringraziò e li salutò. Ma mentre stava per scendere dall'auto Cameron la ferrò per un polso, le mise un coltello alla gola e la trascinò di nuovo dentro al veicolo. Le infilò la testa all'interno di una sorta di scatola di legno rivestita di polistirolo. Uno strumento che aveva fabbricato lui stesso per attutire le urla della sua vittima. In seguito la manettò. Marlitz era frastornata e completamente disorientata. Quando arrivarono a casa parcheggiarono all'interno del garage. Janisse raccontò che Marlitz era isterica. Tentò di tranquillizzarla dicendole che non le sarebbe successo niente se avesse mantenuto la calma. Poi entrò in casa. Quando tornò, qualche minuto più tardi, la vide in piedi accanto all'auto, confusa e a malapena capace di reggersi in piedi. Non indossava più la scatola di legno sulla testa. Sentendo odori di etere nell'aria, Janisse chiese a Cameron cosa avesse fatto e lui confessò di averlo usato per farle perdere coscienza. Poi l'uomo intimò la compagna di aiutarlo a condurre Marlitz nel seminterrato. Lee la legò e appese le corde a dei ganci affissi sulle travi del soffitto per mantenerla sollevata da terra. Marlitz, che intanto aveva ripreso conoscenza, urlava e supplicava a gran voce di essere liberata. Giurava che non avrebbe mai raccontato a nessuno quanto successo e che non avrebbe denunciato l'accaduto alla polizia. Ma quelle urla ebbero l'effetto contrario a quello sperato. Cameron era affascinato dall'idea di controllare e soggiogare le sue vittime, ma odiava quando le stesse si mettevano ad urlare. Così ebbe un'idea, una folla idea. Convinto che tagliandole le corde vocali l'avrebbe azzittita, ordinò la sua consorte di portarla in bagno, dove l'avrebbe aiutato a portare a termine l'operazione. Dapprima Janisse si rifiutò categoricamente di assisterlo, ma minacciata dal marito di essere sottoposta allo stesso trattamento finì per cedere. E a questo punto, evitando i dettagli più macabri che potrebbero offrire la sensibilità di alcuni di voi, mi limiterò a dire che l'operazione non andò per nulla a buon fine. Incapace di portare a termine il suo folle piano, Cameron si spazzentì, perse le staffe e riportò la giovane nel seminterrato. In un primo momento Janisse non lo seguì. Era troppo terrorizzata per farlo. Quando alla fine, dopo essersi fatta coraggio, fu in grado di scendere le scale, trovò Marliss nell'abitazione senza vita, appesa per il collo con una corda legata ad una trave del soffitto. Erano da poco passate le 3.30 della notte. Forse le 3.37. L'ora alla quale Jodie si era smegliata di soprassalto decine di volte, tormentata dagli incubi in cui riviveva quanto successo alla giovane. Subito dopo, l'uomo avrebbe ordinato a Janisse di aiutarlo. Marliss sarebbe stata avvolta in una coperta, infilata nel bagagliario della sua macchina e portata in un luogo sperduto per essere seppellita. Janisse non avrebbe avuto scelta. Terminato il compito, poche settimane dopo avrebbe rapito Colin, che a differenza di Marliss capì subito che l'unico modo di uscire viva da quella situazione sarebbe stata quella di assecondare il suo carnefice. Colin non contattò mai la polizia, solo perché aveva promesso a Janisse di non farlo. Erano convinte che Cameron avrebbe capito i suoi errori e sarebbe cambiato. Quindi gli fu fedele. Fu solo quando Janisse parlò con la polizia nel 1984 che, anche lei, decise di raccontare tutta la verità. Nel suo resoconto dei fatti non dimenticò di menzionare di aver visto le foto di Marliss in casa, quindi di essere cosciente che fosse stata una vittima prima del suo arrivo in casa Hooker. Le versioni delle due donne coincidevano e finalmente ci sarebbero stati i presupposti per portare Cameron di fronte alla giustizia. Nella sua confessione Janisse riuscì a ricordare il soprannome e il luogo di nascita di Marliss. Descrisse anche i vestiti che indossava quando la rapirono, ma purtroppo non fu in grado di ricordare il luogo dove avevano seppellito il suo cadavere. Fece diversi tentativi per risalire al cammino fatto per giungere nel punto esatto dove l'avevano sotterrata, ma fu tutto inutile. In mancanza di un corpo, l'omicidio della ragazza non avrebbe potuto essere provato o attribuito a Cameron. In breve, per assicurarsi che l'uomo pagasse e che fosse condannato, tutta l'attenzione avrebbe dovuto concentrarsi su Colin. Era l'unica che poteva testimoniare. Nell'ottobre del 1985 Cameron venne processato quindi per i crimini contro Colin. Lei raccontò per filo e per segno i dettagli in merito al suo rapimento. Anche Janisse fu chiamata a testimoniare. Alla domanda sul perché avesse deciso di aiutare il marito a compiere quei crimini, rispose che lo fece per paura. Perché le aveva detto che se non l'avesse fatto sarebbe bruciata all'inferno. I dettagli emersi durante il processo furono semplicemente terrificanti, ma nessuno di essi riguardò Marlise. Il processo durò sei settimane. A novembre Cameron venne condannato per dieci capi d'accusa, tra cui rapimento e stupro. Al momento di emettere la sentenza, il giudice dichiarò quanto segue. Considero quest'uomo forse il più pericoloso psicopatico con cui abbia mai avuto a che fare. In seguito, rivolgendosi a lui, gli disse «Sento che finché vivrà, lei sarà sempre un pericolo per le donne che la circondano. Le darò il massimo della pena possibile. 104 anni di reclusione». Giustizia era stata fatta. O almeno in parte. Mentre il caso di Colin era stato chiuso, quello di Marlise rimaneva aperto e lo sarebbe rimasto per sempre. In mancanza di nuove prove o altre piste da seguire, le indagini giussero infine ad un punto morto. La sorella di Marlise, Marta, non poteva credere che la polizia fosse incapace di trovare il corpo della sorella. Era furiosa per il fatto che Marlise non fosse nemmeno stata menzionata durante il processo. Perché non era possibile fare giustizia anche per lei? Ma fu dopo aver appreso i dettagli sulla scomparsa e il presunto omicidio della ragazza, che Jodie prese finalmente coscienza di un fatto innegabile. Moltissimi dettagli dei suoi strani sogni e dei numerosi incubi avuti, mentre viveva nell'appartamento numero 14, concidevano in tutto e per tutto con la confessione di Janice. La coppia di malintenzionati in macchina, la ragazza con i capelli castani, la luce fioca nel seminterrato, il gancio sul soffitto e quell'ora ricorrente alla quale si svegliava di soprassalto, le 3.37, l'ora in cui Marlise esalò il suo ultimo respiro forse. Quella presa di coscienza le fece capire che la chiave stava proprio lì, nelle immagini elaborate durante il sonno. Scavò nella memoria per raccogliere quanti più dettagli possibili emersi all'interno dei suoi incubi e di colpo ne ricordò uno importantissimo. Non ci pensò molto e chiamò il dipartimento di polizia di Red Bluff dicendo di dover parlare con il detective Hale. La storia che raccontò la gente aveva dell'incredibile. Jody sosteneva di avere un'idea di dove Marlise potesse essere sepolta. Nei suoi sogni, da mesi ormai, veniva tormentata in continuazione dagli stessi numeri e lettere. A-17, 35, 76. E se la A-17 fosse stata la strada che l'assassino avesse preso per giungere sul luogo della sepoltura? E se quel 35, 76 fosse stata la distanza percorsa da Cameron in macchina per arrivare lì? Il detective Hale mantenne sempre una posizione alquanto scettica sulla faccenda, come dal credito a quello che diceva Jody? Sogni rivelatori? Tuttavia, a scanso di equivoci, questi dati vennero comunque inseriti in un software di mappatura? E immaginate la sorpresa quando Hale scoprì che la distanza tra la casa di Cameron Hook e la zona dove, dagli indizi raccolti, si supponeva che potesse essere stato sepolto il corpo senza vita di Marlise era di 35,77 miglia. Coincidenza? Beh, se così fosse, si tratta di una coincidenza un po' troppo grande, non trovate? Ad ogni modo, questo non è stato sufficiente per portare alla luce i resti di Marlise. E forse è proprio questa la ragione per cui il suo vecchio appartamento è lo scenario di tali eventi paranormali. Ancora oggi, Jody ha difficoltà a parlare di quanto vissuto all'interno dell'appartamento numero 14. Afferma di aver sempre avvertito che in quella casa ci fosse una presenza disperatamente bisognosa di essere ascoltata e aiutata. A detta sua, lo spirito di Marlise vuole solo che i suoi resti siano finalmente portati alla luce e che Cameron paghi anche per lei. Solo così sarà in grado di riposare in pace. Ma ora la parola passa a voi. Cosa ne pensate di questa vicenda incredibile? Credete che i fenomeni paranormali che Jody afferma di aver vissuto nell'appartamento numero 14 siano reali? Sono un tentativo di Marlise di chiedere giustizia? Fatemelo sapere in un commento. Gli sapevi che i nostri spiegoli, il più di pericolato il risultato dell'appartamento del risultato. Questa è stata fatta. Questa è stata fatta di farlo, più di più di raccoglie di quanto mi ha avuto. Questa è stata fatta di farlo, più di più di più di tutto. Questa è stare perdere l'interesse, e sarebbe più veloce. Grazie a tutti.